Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aroneggianina. Oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i deliziosi funghetti del bosco. Queste delizie sono veramente sfiziosissime e adatte a ogni tipo di festa. In aggiunta sono facilissime e velocissime da preparare. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 5 pomodori grandi 5 uova sode 1 mazzetto di rucola 1 cucchiaio di maionese Per chi non avesse visto la nostra ricetta c'è il link in descrizione. Comunque tutti gli ingredienti di questa ricetta sono biologici. Per prima cosa tagliamo il fondo del pomodoro. Tengo a dire più regolare possibile. La parte in eccesso la mettiamo da parte. Poi togliamo via tutti quelli che sono i semi aiutandoci ovviamente con un cucchiaino. Eccolo qua. A questo punto abbiamo ottenuto il cappello del nostro fungo. E ora prendiamo il nostro uovo Tagliamo poco le estremità in modo che sia regolare. Anche qui il più preciso possibile Altrimenti non sta in piedi. Poi ci appoggiamo sopra il cappello di pomodoro e lo appoggiamo sul nostro letto di rucola. Poi tagliamo a cubetti Tutti i nostri scarti Anche questi devono essere abbastanza perfetti perché all'occhio devono sembrare bene o male tutti uguali. Poi aiutandoci con la nostra maionese ne mettiamo proprio un pochino sopra i nostri pezzettini di uovo e li attacchiamo sul cappello del fungo. Continuiamo così finché non finiamo tutti i nostri funghetti. Ma guardate come sono venuti bene i nostri funghetti del bosco! Bene ragazzi il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando attivate la campanella!